Romina Carrisi Power è un'attrice italiana conosciuta soprattutto come personaggio televisivo grazie a programmi come l'Isola dei Famosi, e oggi è un altro giorno. Nasce a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il un grado giugno 1987, ed è la quarta figlia della famosa coppia di cantanti Albano e Romina Power. Romina Carrisi dà alla luce il figlioletto e riceve in cambio quello che ha chiesto. Ma non sono mamma e papà a darglielo. I celebri genitori di lei sono felicissimi per il fatto di essere diventati ancora una volta nonni. A 37 anni ora è toccato a lei vivere l'esperienza della gravidanza. Con questo viaggio giunto al termine, per lei ed il compagno Stefano Rastelli è tempo di gioire. Il nome del figlioletto di Romina Carrisi si tratta di un maschietto non rimarcherà in alcun modo quello dei nonni.